Bene, direi che possiamo cominciare. Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi. Quest'anno abbiamo scelto di alternare le voci nel portare il saluto della cooperativa. È un piccolo gesto simbolico perché pensiamo che sia il tempo di narrazioni plurali. Oggi più che mai c'è bisogno dell'entusiasmo, del coraggio e dell'impegno di tante persone per continuare a essere dove la realtà sollecita lo sguardo e quindi l'azione. Il paesaggio intorno a noi sta cambiando con un ritmo vorticoso e ogni tanto abbiamo necessità di fermarci, alzare lo sguardo, osservare questo paesaggio che cambia e provare a capire dove siamo e dove stiamo andando. Incontri di pensiero è uno di questi momenti, è un'opportunità di scambio e di tessitura per provare a nutrire quella passione intelligente che vorremmo alla base del nostro essere comunità. Allora non è scontato questo nostro ritrovarci davanti a un tema così delicato e così centrale. In un tempo in cui viviamo anche con una certa angoscia, l'incertezza del presente, scegliamo di assumerci la responsabilità di riorganizzare la speranza e provare a rendere il futuro un luogo e un tempo desiderabile. E citando Anna Arendt, preparare i giovani a rinnovare un mondo che sarà comune a tutti. E non è banale il ringraziamento ai tanti che insieme hanno reso possibile questa edizione di incontri di pensiero. Senza ripeterlo mi associo all'elenco che aveva fatto Alessandro settimana scorsa. E non è banale il ringraziamento a chi animerà questa serata. Enrico Mirani che sta provando anche a scrivere un libro su Don Piero e Vincenza Pellegrino che ho avuto la fortuna di conoscere e sono certo saprà stupirci e appassionarci. Sono preziosi gli sguardi intelligenti e divergenti. E non è banale il ringraziamento a tutti voi perché la vostra vicinanza è l'essenza stessa di questi incontri di pensiero e del nostro camminare insieme. E allora prima di augurarvi buon incontro di pensiero vi ricordo che domani si celebra la giornata del povero voluta da Papa Francesco e in questa occasione l'associazione Amici del Calabrone e l'associazione San Vincenzo hanno attivato una piccola iniziativa che va a sostegno dell'emergenza freddo per raccogliere nel periodo invernale le persone che vivono in strada. Pertanto se nell'uscire volete trovate dei sacchetti di farro che verranno venduti proprio per raccogliere fondi per sostenere l'emergenza freddo. Grazie a tutti e buon incontro di pensiero. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere qui. Il tema di stasera è uno, come sempre, che capita con l'incontro di pensiero, belli tosti, diciamocelo subito, insomma. Orfani di futuro tra crisi di senso e capacità di condivisione. Già vi confesso che per decifrarlo ci ho messo un po' nella maniera giusta, perché poi le sollecitazioni vanno bene ma bisogna inquadrarle in maniera giusta. E io l'ho tradotto un po' così, insomma. Se non c'è un senso, se non c'è una meta, non c'è una condivisione comune verso questa meta che è poi il futuro, che è poi la speranza. Io comincerei, introdurrei con una frase di Don Piero che ho conosciuto attraverso Manuel, Manuel Morandi, ma me l'ha fatta conoscere ieri sera. Se vuoi tracciare un solco dritto, attacca il manico del tuo aratro ad una stella. Immaginifica, come sempre, nel caso di Don Piero. E ho pensato che di questi tempi, generalizzo, ma credo che un po' tutti siamo così, rischiamo, o molti rischiano di non avere l'aratro, tanto meno il solco, ma soprattutto di non vedere la stella. Perché la confusione, l'incertezza, come dire, è molto densa. L'è densa per chi, guardo la sala, come noi siamo, possiamo dirlo, novecenteschi, ma lo è anche per i giovani. Tutte le nostre certezze, le nostre categorie, i nostri ismi, dico lì, comunismo, socialismo, cattolicismo, democratico, che ne so, liberalismo, tutte quelle cose che hanno in qualche maniera costruito la nostra idea di realtà, di futuro, di speranza, che avevamo fino all'inizio di questo secolo, sono andati in frantumi, non so se centri, forse sì, anzi, certamente sì, il muro di Berlino, ma non è che voglia andare oltre. C'era l'idea di un mondo migliore. Poi ognuno lo declinava un po' come gli pareva, naturalmente, ma nella dialettica normale, politica, sociale, culturale. Adesso l'impressione è che forse siamo immersi in un eterno presente, come ci dirà poi la dottoressa Pellegrino, e il mondo migliore non lo sappiamo cogliere o forse dobbiamo trovarlo un po' in un altrove. La dottoressa Vincenza Pellegrino è un sociologo, ricercatore dell'Università di Parma, ha scritto numerosi saggi che riguardano proprio il senso, la condivisione e il futuro. Direi che è la persona assolutamente adatta per parlare di questo. Insegna sociologia a Parma, sociologia dei processi culturali e comunicativi. Le dicevo che quando io avevo fatto scienze politiche 30 anni fa, al massimo, sociologia, punto. Adesso la realtà è così complessa che per fortuna gli studiosi e i ricercatori vanno a analizzare dentro i processi del nostro tempo complicatissimi, confusi forse, a meno voi, a parte voi che li capite tutti e ce ne parlerai. Ecco, io volevo cominciare, io mi sono letto e forse poi possiamo distribuirne delle copie il saggio della dottoressa che è Le propensioni utopiche di una generazione precaria. E già nel titolo ci sono una serie di sollecitazioni incredibili, Le propensioni utopiche, quindi l'utopia forse c'è ancora, la generazione precaria, i nostri giovani. Lo smarrimento però riguarda un po' tutti. Ti chiedo, per cominciare, il nostro smarrimento da dove arriva? Il nostro smarrimento da dove arriva? Bella la prima domanda. Allora intanto prendo tempo per la risposta salutandovi, ringraziandovi di essere venuti e cercando un legame tra questa domanda e anche quello che diceva la frase di Don Piero, effettivamente l'arattro, le stelle, che mi ha fatto venire in mente una storiella bellissima che ho ascoltato ieri per la prima volta, la presentazione di un libro di un grande scrittore albanese che ho avuto la fortuna ieri di presentare, si chiama Reznik Mustafai, che parlando della socializzazione forzata alle ideologie che loro hanno vissuto, perché effettivamente se ci pensate ci sono luoghi della terra come l'Albania, ma anche la Germania dell'Est, che videro succedersi totalitarismi di matrice opposta e si viveva in un mondo fascista e poi ci si svegliava in un mondo stalinista. Allora lui fa una riflessione molto bella nei suoi libri di come vive una mente esposta a macchine potentissime di acculturazione al futuro che deve assolutamente essere, che è esattamente il contrario della nostra condizione. Cioè contesti in cui ci sono istituzioni potentissime che ti obbligano a ritenere necessario quel percorso verso il bene e che ci hanno nel passato fatto così male da depotenziare l'idea stessa della politica come luogo che indica il bene. Facendo con lui questo viaggio lui raccontava di questa cosa. Raccontava dell'Albania di oggi, ugualmente smarrita, quindi dopo aver fatto delle abbuffate di futuro ideologico obbligato, oggi si trovano nel mondo comune a tutti e lui incontra giovani che hanno un'esperienza completamente diversa. si raccontava questa storia vera di una tigre che era stata in una gabbia per tantissimo tempo e aveva ogni giorno, girava in tondo e si faceva circa una settantina di chilometri. Il momento in cui la gabbia fu lasciata aperta per caso, la tigre uscì e davanti all'orizzonte, cioè davanti alla necessità di vedere dove andare per muovere passi, non fu in grado di camminare. e allora lì gli etologi spiegarono che proprio per muovere autonomamente verso bisogna concepire un punto di arrivo, un orizzonte, altrimenti si gira in tondo. E questa storia mi è piaciuta un sacco perché ci dice una cosa fondamentale appunto, che il futuro come produzione culturale socializzare i nostri figli al futuro. Ah, speriamo che sia. Ah, probabilmente sarà. La socializzazione al futuro, dicono gli studiosi, uno di questi per esempio Jacques Attali, che ha scritto un libro bello e adesso tradotto anche in italiano, Possiamo prevedere il futuro, Potempreguare le futuri. Dice Attali, si pensa spesso che la cultura è l'insieme del modo in cui raccontiamo il passato, in realtà la cultura è in gran parte la somministrazione di futuro. Studiate il futuro nelle culture e studierete le forme del potere, i sacerdoti, l'aldilà. Io penso spesso alla mia trisnonna che ha avuto otto figli, lavorava nei campi e non sono sicura fosse molto più infelice di me. Eh, ma lei, la convinzione che sarebbe finita nel paradiso, comportandosi bene, l'aveva fortissima dentro di sé. L'aldilà ha funzionato come futuro in terra talmente bene e per talmente tanto tempo da dare un senso alla fatica quotidiana. Quindi ecco, il futuro come oggetto culturale centrale nella storia delle società. Dopo Dio si dice che cos'è la modernità per noi studiosi e tantissime cose, ma una li mette d'accordo tutti. Diciamo, uno degli elementi trasversali agli studiosi rispetto alla definizione della modernità è il trascinamento del senso sulla terra e con esso del futuro. A Dio un'altra cosa potentissima è stata sostituita con la scienza e dal progresso tecno-scientifico. Il dopo non è più il dopo collettivo in un altrove diciamo trascendente ma è il dopo collettivo in questa terra che sarà possibile grazie al fatto che l'uomo grazie alla sua ragione riamministrerà i beni materiali e i materiali della terra aumentando l'abbondanza. È la narrazione progresso e la narrazione progresso si dice aveva davvero per le generazioni che l'han vissuta pochissime sembrava infinita ha avuto un'incubazione lentissima tutto appunto l'illuminismo e tutto ciò che ha preparato la fede in questa ragione come elemento capace di amministrare cosa? Il futuro di chiedere sacrificio nel presente per promettere meglio alla generazione dopo tramite il pensiero razionale era la promessa la scienza può riorganizzare le cose se voi oggi faticate in una appunto industria se voi oggi studiate medicina sappiate che non lo fate per il vostro semplice salario ma perché tutti state contribuendo a questo progresso dalle splendide sorti che vedranno i vostri nipoti depositari di un'abbondanza che noi sappiamo creare usando la terra e le sue risorse nella narrazione progresso scienza ragione risorse materiali e animali assoggettate sono un tutt'uno che fanno da scenario per un paio di generazioni almeno cioè quelle che avevano sia abbastanza scienza che fiducia parti del novecento poi le vediamo e diciamo il progresso a mio avviso si può considerare una grandissima narrazione che ha contenuto ha fatto addirittura da contenitore a le declinazioni ideologiche di come spartirsi l'abbondanza in realtà sia il pensiero liberale che il pensiero diciamo così socialista credevano nel progresso e nella scienza come legittimo modo di amministrare una nuova abbondanza era diverso il modo in cui volevano redistribuirla mio trisnonno l'aldilà mio padre lo ricordo spesso anche agli studenti veniva dal Gargano un piccolissimo paesino suo padre vendeva scampoli dire sarto non è vero mio padre studiò con delle borse di studio e divenne chirurgo si trasferì al nord il nord e tutta la sua vita per lui per noi per il suo padre rappresentava il progresso e per mio padre fare il chirurgo non era avere un salario alto ci sarà stato anche quello ma io mi ricordo in casa mia il vento del sistema sanitario nazionale non era un uomo che faceva politica guardate bene era nella sua scienza declinata dentro la grande narrazione del progresso che il progresso sociale e l'azione tecnica andavano insieme quella cosa lì che pensavamo sarebbe durata per sempre è già finita si è già visto con il passare di pochi decenni che quel tipo di amministrazione del mondo il progresso non porta all'abbondanza per tutti non porta alla pace non porta a un rigoverno gli effetti secondari di quella estrazione continua delle risorse che alla scienza servono si può passare dal ferro al silicio ma il progresso è estrazionista allora quella cosa lì si è dimostrata come una narrazione che ha iniziato a vacillare ha iniziato a vacillare alla fine del novecento le primi crisi delle risorse i picchi dei petrogli i primi grandi incidenti la società del rischio che si svela enorme e poi è arrivato il duemila è arrivato il duemila e ha fatto un salto un passaggio ancora più radicale rispetto alla crisi del futuro che è un po' quello che nel nel saggio chiamo la cronofagia del sistema capitalista ma forse questo merita quasi una seconda riflessione allora il primo passaggio ci serve proprio per dire questo che il futuro è un il futuro è un insieme un immaginario complesso fatto di credenze fatto di calcoli di probabilità ma anche di possibilità che si aprano e viene si è socializzati al futuro all'interno di soglie la messa è una soglia sull'aldilà la classe in cui si insegna scienza è una soglia sul governo tecnologico il futuro è un bolo culturale che ci trasmettiamo continuamente e che serve all'azione sociale nel presente per avere un orientamento c'è un nesso molto forte tra presente passato e il futuro il presente è un soffio il presente non esiste è fatto di mancanza è una nostalgia per il non più e può muoversi da questa nostalgia solo se concepisce il non ancora e allora cerca di trascinarsi dietro il non più verso un non ancora che può dargli dignità il presente si dice alle sue energie dall'assente che sia il passato che va verso un futuro allora la vitalità sociale è legata al modo in cui noi rappresentiamo il futuro il novecento che abbiamo alle spalle con la crisi delle ideologie che hanno smentito la possibilità di avvicinarsi alla distribuzione che promettevano ma anche il progresso in sé al di là dei modi in cui si immaginava la struttura per arrivare alla distribuzione dell'abbondanza quell'abbondanza in sé si mangia il futuro perché ha degli impatti ecologici potentissimi quindi non solo la redistribuzione sociale la politica di cui gli esseri umani sono stati capaci ma anche l'impatto della scienza sulla natura quelle cose hanno talmente scosso l'immaginario delle generazioni novecentesche quelle di mio padre che davvero hanno pensato che il futuro scientifico in sé era bene e che semmai si doveva scegliere il modo in cui redistribuire l'immaginario occidentale si trova davvero scosso non solo dalla crisi delle utopie ma da qualcosa di più profondo che è l'orgoglio per il pensiero razionale che si è mostrato non semplicemente riordinatore ma profondamente disordinatore degli equilibri ecologici questa è una cosa ancora più profonda perché di tutto si può parlare in occidente criticare tutte le forme di politica ma che la medicina che prolungare la vita la nuda vita sapete dove vediamo l'intoccabile diciamo la base identitaria più intoccabile dell'occidente quando lavoriamo nella cooperazione di tutto si può discutere ma che insegnare agli altri come curarsi e a non morire per favore quello non facciamo del relativismo e chi si occupa di antropologia sa che la questione oggi non è solo il non morire ma il morire bene perché arriva un momento in cui c'è un tetto e si cerca un senso ma di quello la medicina non si occupa allora la crisi del pensiero razionale che si vede come disorganizzatore è una crisi di futuro radicale verso cosa tendiamo i nostri giovani anche a scuola nell'aula di scienze il ragazzino si chiede perché studio scienze e la risposta non è più un implicito condiviso che è chiaro che studiare matematica latino scienze fisica più tu sarai razionale più tu sarai competente più tu sarai scientifico più la società guadagnerà un bene complessivo chiamato progresso questo gli adulti non sono più in grado di trasmetterlo in maniera secca tant'è vero che poi qui chiudo la prima domanda davanti a una figlia di 14 anni che dice insomma cosa devo fare perché le cose abbiano un senso io gli dico intanto cerca di prendere tutti i dieci però anche non sentirti performativa rispetto alla scienza se vuoi puoi anche tornare verso casa a fare figli però anche tesoro se vuoi spiaggiarti non è illegittimo questa educazione è centrata sull'individuo è come se io le trasmettessi il senso del futuro è che tu stia bene e lei dice ma bene rispetto a che progetto collettivo dimmelo che cosa io devo guardare e io che non sono più neanche tanto convinta che fare tanta scienza serva che fare tanta filosofia serva non me lo strappano di bocca e anzi mi illudo che il mio non nominare il futuro sia il senso della democrazia vedrai tu quando arriverai in realtà questo è come disporre la tigre cioè i ragazzi in una palestra che finge la vita come se non fosse invece l'iniziazione alla vita ciò che educa mi ricordo che a me dicevano deve essere così e io opponendomi a quel deve essere così ho trovato la mia via politica invece adesso a mia figlia dico no non guardare dopo dopo lo deciderete voi ed è un po' la tigre che aperta la gabbia non ha imparato a maneggiare il futuro come oggetto e non si muove un po' ripete che sia questa una generazione in cui sono sprofondati i futuri delle generazioni precedenti sia ideologici che progressisti è chiaro e quindi è abbastanza dolente nei processi educativi il futuro si è sommerso non c'è più socializzazione a un'idea di futuro migliore ok grazie a tutti